buongiorno ragazzi oggi impariamo a caricare i dati che sono conservati nel database attraverso il comando select ripartiamo con lo schema di tabelle visto nella lezione precedente in cui abbiamo la tabella persone con i campi pd nome cognome e id città in cui pd è la chiave primaria e la id città è la forenchi la chiave esterna inoltre abbiamo la tabella città con i campi cd e nome in cui cd è la chiave primaria notiamo che entrabbe le tabelle presentano il campo nome dunque abbiamo un problema di collisioni fra nome di campi tra queste due tabelle se volesse avere una lista con tutti i contenuti dei campi città e cognome nella tabella persone vado a scrivere select e poi elenco i campi città virgola cognome from e quindi metto il nome della tabella persone vedete in basso il risultato in cui vengono evidenziati in blu i nomi dei campi e in nero i contenuti della tabella potrei utilizzare il calattere asterisco per comunicare al database la mia volontà di vedere tutti i campi che sono all'interno della tabella persone anche se questa viene vista come una brutta pratica utilizzabile per lo più soltanto nelle operazioni di manutenzione se io dessi il comando select asterisco from persone avrei come risultato i quattro campi che compongono la tabella e quindi pid nome cognome e id città e sotto tutti i contenuti di questi campi potrei avere il bisogno di vedere soltanto alcune delle righe che sono contenute nella mia tabella sarebbe meglio dire tuple contenute nella mia tabella utilizzo allora la clausola where che fa da filtro select asterisco from persone where pid uguale 2 mi da come risultato la tabella che vedete in basso in cui c'è soltanto la persona elisa verdi che ha pid uguale 2 dunque utilizzando questa clausola io metto un vero e proprio filtro che lascia passare soltanto le righe della tabella per cui che quella clausola è verificata per cui quel where da un esito positivo all'interno di una clausola where posso utilizzare delle vere e proprie espressioni logiche per cui se scrivo select asterisco from persone where pid maggiore uguale 2 and pid minore uguale 3 verranno selezionate dalla tabella soltanto le righe che renderanno vera questa espressione affinché sia vera questa espressione abbiamo bisogno che pid sia maggiore uguale a 2 e pid sia minore uguale a 3 e le due righe che rispettano questa condizione le vedete elencate qui in basso posso in maniera analoga anche utilizzare l'operatore logico or per cui scrivo select asterisco from persone where pid uguale 2 or pid uguale 3 in questo caso il risultato sarà come prima analogamente a prima l'elenco delle due righe o tuple che vedete in basso può capitare la necessità di voler scrivere espressioni di tipo logico che vadano ad operare su campi di tipo testuale di tipo text in questo caso dobbiamo imparare ad operare con questi due simboli il primo dei quale è il simbolo percentuale quindi vado a scrivere select asterisco from persone where nome like notate la presenza della parola like e poi tra virgolette mettiamo e e poi il simbolo percentuale dunque possiamo vedere la parola like come possiamo intenderla come un assomiglia e poi e il simbolo percentuale sta a significare un qualsiasi gruppo di caratteri di tipo numerico o di tipo alfabetico maiuscolo o minuscolo sostanzialmente andiamo a dire vami a prendere tutte le persone che hanno un nome che cominci per e vediamo che le righe che rispettano questa condizione sono soltanto la riga 2 perché il nome di questa persona è elisa sarebbe andata bene anche elide oppure enea l'altro carattere che dobbiamo imparare ad utilizzare è il carattere trattino basso in inglese underscore mentre il carattere percentuale indica qualsiasi qualsiasi quantità quindi una quantità compresa tra 1 a n di caratteri che possono essere o numerici o di tipo alfabetico con l'underscore noi utilizziamo un solo carattere indichiamo un solo carattere che può essere di tipo numerico oppure alfabetico maiuscolo o minuscolo quindi dicendo select asterisco from persone where nome like e tra virgolette e seguito da 4 underscore indichiamo che stiamo cercando una parola che inizia per e e poi abbia quattro lettere o quattro numeri elisa rispetta di nuovo questa condizione ricapitolando nella clausola where io posso utilizzare se ho se sto confrontando quantità integer oppure real i simboli uguale punto interrogativo uguale punto esclamativo uguale per il diverso maggiore stretto maggiore uguale minore stretto minore uguale se invece sto facendo dei confronti sulle variabili sui campi di tipo testuale text utilizzerò la parola chiave like seguita da un'espressione tra virgolette che comprende il simbolo per cento oppure underscore fino ad ora ho selezionato campi provenienti da un'unica tabella ma come faccio a selezionare campi che provengono da più tabelle in questo caso da due ricordiamoci che la tabella persona è collegata alla tabella città attraverso la chiave esterna id città che sta nella tabella persona che indica la chiave primaria cid nella tabella città esiste dunque questo legame fra le due tabelle inoltre ricordiamo che abbiamo il problema dei campi nome che appaiono sia nella tabella persone che nella tabella città abbiamo quindi questo problema di collisione in questo caso vado a scrivere l'espressione select utilizzando l'espressione estesa e non la forma che un tratta vista in precedenza in modo che il sistema abbia ben chiaro quali sono le mie volontà dunque vado a scrivere select persone puntino pd per indicare il campo pd della tabella persone e poi persone punto nome persone punto cognome e attenzione città punto nome in questo caso i due campi nome che sono sia nella tabella persone che nella tabella città non vengono confusi fra di loro seleziono dove inizio dalla tabella persone quindi from persone e poi vado a congiungere unire join la tabella città sulla clausola di join on che persone punto id città deve corrispondere a città punto c id ricordiamoci che noi questa espressione l'avevamo già sottolineata quando al formare della tabella abbiamo espresso al database l'esistenza di una chiave esterna di una foreign key quindi sostanzialmente quella chiave esterna mi va a dire qual è la condizione di join che mi permette di congiungere queste due tabelle in basso posso dunque infine anche aggiungere un'espressione di tipo logico un filtro where persone punto pd uguale 2 or persone punto pd uguale 3 il risultato lo vedete in basso ho le quattro colonne persone punto pd persone punto nome persone punto cognome città punto nome e poi vedete contenuti scelti fra le tuple che rispettano la clausola where potete vedere come questa tabella sia formata in parte dalle colonne della tabella persone e in parte dalle colonne della tabella città quindi una vera unione congiunzione di due tabelle nel video precedente abbiamo anche fatto una configurazione con queste tre tabelle in cui abbiamo la tabella libri che che contiene led e titolo e quindi un elenco di libri abbiamo la tabella autore con i campi id e nome che contengono per l'appunto gli autori di quei libri e abbiamo una tabella che ci esprime la relazione fra queste due tabelle infatti questa la chiave idl e la chiave id a inoltre la tabella di relazione ha un campo anno andiamo a vedere come posso utilizzare queste chiavi e questi autori per andare a creare una tabella unica attraverso una select che prenda il titolo l'anno in cui è stato scritto il libro e il nome dell'autore in questo caso non ho problematiche di collisioni fra i nomi dei campi delle tabelle quindi posso utilizzare la notazione contratta che mi permette di esprimere il solo nome del campo e vado a scrivere select titolo virgola nome virgola anno quindi i nomi dei campi che provengono dalle tre tabelle e inizio da libri from libri poi vado a congiungere la tabella scrive join scrive sul predicato di join on lid uguale idl e poi vado a congiungere la tabella autori sul predicato di join lda uguale a id come prima ricordiamo che avevo espresso queste che le uguaglianze che sono all'interno delle condizioni di join erano già presenti nella creazione delle tabelle quando andavo a evidenziare la presenza di chiavi esterne il risultato è la tabella che vedete in basso che contiene i tre campi provenienti dalle tre tabelle notiamo che nel titolo ho due autori che hanno lo stesso titolo il titolo basi di dati è presente due volte una volta perché è dell'autore azzeni e l'altra volta perché dell'utore dell'autore paraboschi così come l'hanno è ripetuto due volte notiamo anche che dante a rigieri ha scritto sia la vita nova che la divina commedia e quindi viene ripetuto due volte dunque siamo partiti da due tabelle la tabella libri aveva quattro righe la tabella autori aveva quattro righe ma la tabella scrive che indicava la relazione aveva cinque righe la tabella che fuoriesce alla fine di questo processo contiene tante righe quanto ne contiene la tabella di relazione concludiamo la lezione di oggi ricordando che oggi abbiamo visto il comando select abbiamo visto la clausola where e abbiamo utilizzato join per collegare fra di loro più tabelle buona giornata a tutti